Ancora tutta da chiarire, la dinamica del terribile incidente avvenuto stamane intorno ai 9.20 alla scuola 11 febbraio 1944 di Collepineta a Pescara. Una ragazzina di terza media, dell'età di 13 anni, volata giù dalla finestra al primo piano da un'altezza di circa 5 metri, riportando diversi traumi. Fortunatamente fuori pericolo di vita, i sanitari del 118 subito intervenuti l'hanno trasportata alla pronto soccorso dopo averla stabilizzata. La ragazza, anche se sotto shock, non avrebbe mai perso conoscenza. Sul posto la volante della polizia e gli uomini della scientifica. Raccolta testimonianze e ascoltata per diverse ore la dirigente scolastica. Aperto come atto dovuto un fascicolo da parte della procura per accertare se sia configurabile una qualche responsabilità in base all'articolo 40 del codice penale che afferma che non impedire un evento che sia l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo, soprattutto in relazione a presunte problematiche della giovane vittima. Sul posto anche diversi genitori che, appresa la notizia, sono accorsi per accertarsi su quanto fosse accaduto e se i propri figli stavano bene, ma l'attività scolastica è ripresa quasi subito regolarmente.